grande fratello shayla è pazza d'amore confessa tutto su lei e il coinquilino shayla gatta e lorenzo spolverato sono volati nella casa del grande fratello spagnolo uno scambio che ha rivelato molte sorprese che nessuno si aspettava il quotidiano del grande fratello di oggi 24 ottobre 2024 è stato tutto centrato su ciò che hanno fatto shayla gatta e lorenzo spolverato in spagna con confessionali inediti e dichiarazioni d'amore grande fratello shayla è pazza d'amore confessa tutto su lei e il coinquilino shayla gatta e lorenzo spolverato sono volati nella casa del grande fratello spagnolo il quotidiano del grande fratello di oggi è stato tutto centrato su ciò che hanno fatto shayla gatta e lorenzo spolverato in spagna con confessionali inediti e dichiarazioni d'amore la gatta ha dichiarato sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo gli occhi di lorenzo sono forti parlano sono comunicativi poi c'è la paura di innamorarsi però ti dico con lui a questa paura non ci penso più l'ho sentito sentivo delle cose nello stomaco poi l'ex velina si è lasciata andare a delle confessioni ancora più private le parole dell'ex velina shayla gatta sulla relazione con lorenzo spolverato nata nella casa del grande fratello ha dichiarato non ho mai vissuto un'emozione così mi sento una bambina di 12 anni sono felice lo desidero proprio per una volta ho detto non me ne frega niente basta pensare vai e ascolta il tuo cuore abbiamo dormito insieme abbiamo iniziato ad accarezzarci sentire cose e a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più ed è partita questa passione un sentimento condiviso anche da lorenzo spolverato che in italia a elena prestes che lo aspetta con shayla è partito tutto da una carezza come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio un'attrazione e un'energia che ci collega che è inspiegabile quello che noi viviamo noi lo sappiamo lo sentiamo e questa è la cosa più importante